Ciao a tutti sono iBots e benvenuti in questo nuovo tutorial quest'oggi vi andrò a mostrare come scaricare e giocare la mappa Terra Restore che ha appena iniziato Surer Power insieme a Stepney andiamo a mettere subito un bel mi piace e per giocare appunto alla mappa e per scaricarla vi basterà recarvi nella descrizione di questo video e andare appunto a trovare il primo link che si chiamerà Download Terra Restore e appunto vi porterà su questo sito di minecraftforum.net successivamente dovete scrollare la pagina e sotto la sezione Maps trovate appunto Terra Restore 2 cliccate appunto sul tasto verde vi aprirà quest'altra schermata con moltissime scritte e spiegazioni della mappa poi ci sarà la schermata ancora Download che una volta cliccata vi aprirà queste altre scritte dove dovete andare a cliccare appunto su Download Link Download for 1.9 Snapshot questa appunto è la versione 1.9 quindi vi servirà Minecraft 1.9 per giocare la mappa una volta che avete cliccato lì vi porterà questo sito che vi farà appunto partire il download in automatico io adesso lo andrò ad annullare in quanto già l'ho scaricata la mappa e appunto una volta che avete scaricato vi troverete l'archivio zip che dovete andare ad estrarre tramite 7zip o WordRide di cui trovate il link del download nella descrizione quindi fate tasto extra 7zip extra i file e vi estrarerà appunto la mappa che si chiama Terra Restore 2 andiamo a farci il doppoclick andiamo ancora a fare il doppoclick e troveremo tutte queste cartelle quindi torniamo indietro di 1 e assicuratevi appunto di copiare l'ultima cartella disponibile quindi facciamo tasto destro copia poi andiamo nella cartella di Minecraft che si trova su %updata%roaming.minecraft nella cartella save si incolliamo qui dentro la nostra mappa queste altre mappe sono tutte le mappe che hanno iniziato sempre di vari youtuber e di cui trovate il link del download nella descrizione poi andiamo ad aprire Minecraft 1.9 mi raccomando poi andiamo appunto a selezionare la mappa Terra Restore 2 e come appunto potete verificare voi stessi questa è esattamente la mappa che hanno appena iniziato quindi ragazzi questo è il tutorial molto molto veloce come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace se vi è stato avuto questo video per cose di problema lasciatemi un commento e noi ci becchiamo nel prossimo video ciao a tutti